Sandonà in Arte, la Confcommercio e l'amministrazione di Sandonà di Piave, nella giornata di sabato 12 e domenica 13 aprile, dalle ore 10 alle ore 19, hanno organizzato una passerella di mostra d'arte e di attività artigianali, con la partecipazione di 20 artisti nel Veneto orientale, presenti quattro gazebo, dove saranno esposte le opere con un'inventiva e tema pasquale.